Sono appena tornata da Torino, ho presentato il mio ultimo romanzo, più veloce dell'ombra, che in effetti è ambientato a Torino negli anni 80, ma parlo malissimo di quella città, perché all'epoca si stava male, lì erano tutti freddi, e sono andata a dirglielo, soltanto che sono stata accolta benissimo, affettuosi, la città scoppietta. Allora adesso io mi dico, se domani, da Tuba, il mio quartiere, il Pigneto, dove vivo dal 2000, non viene nessuno alla presentazione di questo libro, nonché allo spettacolo che farò dopo con Mero, sempre tratto dal libro, è no choice, se voi non venite, io faccio le valigie e me ne torno a Torino, chiaro?